Buongiorno a tutte e tutti, mi spiace di non essere qui oggi con voi. Ai miei impegni improrogabili mi hanno portato lontano da questo evento. Qui la città metropolitana collabora da molti anni anche nelle sue varie riedizioni. Devo ringraziare la SA, la Scuola di Amministrazione Aziendale, in particolare il Dottor Gallo, ma anche l'Università per questa progettualità comune. I nostri giovani hanno sempre maggiore necessità di conoscere il mondo del lavoro, le aziende, prima ancora di uscire dalle scuole superiori. Credo che questa tipologia particolare di formazione che mette insieme le scuole, insieme alle università e fa conoscere qual è la realtà aziendale, sia importante per i nostri giovani che affronteranno ben presto poi il mondo del lavoro. Devo dire che gli esempi che abbiamo visto negli scorsi anni hanno visto sempre ragazzi molto interessati, felici di questa opportunità. E quindi presumo che anche quest'anno si siano svolte nello stesso modo quelli che sono gli incontri con le aziende, ho visto anche molte aziende interessate a mettere in campo le loro competenze per poterle farle conoscere ragazzi. Quindi auguro a tutti voi di proseguire questa giornata in modo positivo come tutti gli incontri che sono avvenuti. La città metropolitana è sempre al vostro fianco, è sempre al fianco di questa iniziativa davvero unica e importante sul territorio.